punte torres mi sa che va messo sempre il solito qui difensori centrali si può mettere alà sicuramente con a te e campbell poi a sinistra qui a sinistra serve teo qui a centro campo considerando che comunque gioca anche un cdc a destra si può mettere molina bellingham non può farlo qui si potrebbe provare a mettere il colso già palardino mi sembra non ci sia un marinatore perché era in attività affinatura mettiamo dionisi comunque per far capire che ok vabbè passiamo alle tattiche le tattiche sono pressing perso una volta persa palla 30 di ampiezza e 50 di profondità costruzione manovra equilibrato operazione occasioni inserimenti offensivi ampiezza 40 gioco in area 7 e qui 3 e 3 ok passiamo alle istruzioni istruzioni allora portiere uscita sui cross esterno destro rientra in difesa entra in area per il cross altro esterno rientra in difesa gioca largo inserisci tra le spalle e entra in area per il cross poi cdc intercetta linee passaggio resta dietro un attacco copertura al centro e registra le trago yes poi c'è una pista di destra avanza entra in area per il cross e basta bellingham resta dietro un attacco e basta poi facciamo a questo punto di qua rimani centrale torre e rimani in avanti quell'altro attaccante rimani centrale inserisci si alle spalle e rimani avanti e queste sono le istruzioni ora per l'offer mi piacerebbe portarla a 90 che potrebbe servirvi qui mi sta cambiando anche il fisico allora ragazzi no le magliette vai a me non fare le magliette io con la difesa a tre non ci ho mai giocato non voglio stare in gru di eccoci qua signor giudice allora vediamo come si come performa il modulo di il modulo di ballardiene sarà un po' completata perché difesa a tre ci ho giocato veramente poco tutto quest'anno si buona palla forrest bravo piccolo lì noa oka5 1 a 0 il nigno 2 a 0 bravo giudice oddio guarda mai le lele infazzo ma guarda che gli ha preso se stai guarda che gli ha preso se stai guarda che ha preso guarda che ha preso ma come fai a come fa a passarti di lì come fa lo rigioco va bene così dai nulla va bene va bene gioco ma va bene eh nulla dai ah certo va bene ah ok cioè guarda che gol bisogna prendere poi teni loro le mani buate non ce l'hanno però eh allora facciamo rimanere a lui e go guarda che ha preso ho fatto dai raga 1 a 0 torri è ok non chissà come si è fatto a levare la palla 2 go così ho preso 2 go così olè van der sart olè van der sart è nulla è nulla dai vabbè io sto spavando forrest ah ferdinand i più forti ok bernardo silva quelli parola è passata due centimetri mica dice oh prova a intercettarlo si l'hai visto ah certo 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 eccolo lì fernando torres non si può così non si può io divento falso guarda che go di merda vaffanculo bellingham da 1 ah qui me l'ha fatta me l'ha fatta bella bravo gli oris oh buttalo fuori buttalo fuori 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 buttalo fuori dai questo è go no meno male però aspetta dimmi non meno male bravo ma vaffanculo vai vaffanculo però era ritornata a tepiz era lì vabbè fanno uno per giro sto prendendo ma c'è vinto che mi morina c'ha il cross capito che c'è il cross ok 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 bravo odiorissimo non so come fanno vabbè hanno una velocità nel spostare a fare sti micro movimenti ma for si porta a casa il pallone e torres e non altro bravo tu amore non stai porchiare l'ho visto dopo ah sì perfetto no c'ero eh eccoci qua vabbè la smith ci sofferisce bene la cassa c'è un palla va bene anche sta corsa buggata me la devono spiegare però non si può dai non si può non si può obbedire un gioco così che non riesce a levar le palla dai piedi ragazzi ma allora cioè io non la quinto perché non voglio quittare queste partite però scusa cioè allora con a te non sposta la smith gli altri due centrali in aria stanno a guardare le farfalle ma come si fa già in questa maniera come fa rimanere rilassato a giù a stu giochi che rigore è non ho appicciato nulla ma che rigore è non qui il dolore perché è la sfida che voglio fare che non voglio vittare le partite questo è il rigore di no vado a fattare con il gioco no va bene ma si piava un po' così guarda pazzito olè va bene c'è limitato ma cosa fischi sono ancora lì qua nessuno dei due oh pigiato anche il tasto nessuno dei due attaccanti va avanti non è giusto fare delle partite così però io non c'è un po' più in grado a stu giochi è ingiocabile è ingiocabile bravo lì vula rimane in campo la palla bello 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 perché mi devo fare il pinocchio al centro in questa maniera ma com'è possibile no no che fatica fernando torres come fa ma come ce la faccio ma come fa l'overdorf affanose di genere proprio lì vai luis muriel che cazzo è fatica che fatica ho fatto il portiere ho questo du porca però vogliamo beh ti bisogna fare un meno spara e si deve salvare davvero ok ohioi che fa conate che fa non mi ricordi se si nasconde palli gratis va bene va bene va bene va bene va bene si va continuiamo a pagliarmi a lui da sta palla di merda dai va bene però via 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 sta palla dai gottatori godos non pensavo posto rosso sinceramente però godos stai portiere aaaah eh vabbè me la butto pure addosso ma che fa come cazzo è possibile una cosa di genere ah ok tu mori è andata a volte va bene raffanculo vai porti il portiere e tre a te e tre a te e tre a te però lo so appena riesco a parlare eh boh e vabbè palla per te o ma devi stoppare la tu mori lì facciamoli fa gol che video lì era per te o la palla no devi intercettarla tu mori posto il portiere ancora vai non risposta una volta vai l'unica volta non ha spostato il portiere ragazzi vabbè grazie va vabbè 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 bello bello tutto fernando torres ancora no oddio si vabbè dai come si è girato e anche questa ballardini fa il suo 5-5 pampari e poi anche con famiglia perché è difficile da usare sinceramente